Ciao a tutti amici di CiperTV, dopo quattro mesi di vagabondaggio in giro per l'Italia abbiamo visitato tantissimi boxe, abbiamo girato tantissime classi, abbiamo visto vari aspetti della community del CrossFit italiano e per questo vorremmo ringraziare tutti per l'ospitalità che ci avete dato. Ebbene, dopo quattro mesi, a partire da settembre, finalmente CiperTV ha trovato una sua casa. Si tratta di CrossFit Lizio che è un po' un boxe, è un po' uno studio televisivo ed è il posto dal quale a partire da settembre registreremo e faremo tutte le nostre produzioni. Non mi resta che darvi appuntamento al 3 settembre, ci vediamo per la prima classe da CrossFit Lizio, grazie a tutti e a lunedì!